Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il titolo non è clickbait, la miniatura nemmeno, è effettivamente quello che io voglio fare, ossia prendermi una pausa da YouTube, perché ne ho bisogno. Contrariamente a quello che molti di voi potrebbero pensare, il motivo non è la maturità, o meglio, chiaramente ha svolto il suo ruolo nel farmi prendere questa scelta, ma i motivi sono altri e sono legati alla mia persona. Sto attraversando un periodo complicato, non direi difficile, ma complicato dal punto di vista personale, riguardo a ciò che voglio, a ciò che desidero e a quali sono le mie certezze nella vita. In questo momento sono seguito da uno psicologo per superare questo momento che personalmente mi ha gettato in una situazione per la quale, secondo me, fare video sarebbe totalmente inutile. Sarebbe inutile da parte mia, perché lo farei controvoglia, lo farei con un peso addosso e sicuramente mi graverebbe sull'animo, mentre sarebbe un controsenso da parte vostra, perché andrei sostanzialmente a portarvi qualcosa che non voglio fare, per poi non ottenere sostanzialmente niente. Fosse YouTube un mio lavoro, fosse YouTube qualcosa per cui vivo, già sarebbe diverso, ma siccome non lo è mai stato, probabilmente non lo sarà, mi sembra inutile continuare in una condizione per la quale io non provo più interesse nel portarvi contenuti. Voglio essere chiaro, questo non è un video di addio, non ancora. Ho bisogno di una pausa per valutare quali sono le mie priorità nella vita, quali sono le certezze a cui mi voglio aggrappare. In questo momento non vi entro nel dettaglio, ma sto attraversando un periodo complicato per quanto riguarda la mia persona dopo tanto tempo di relativa felicità, e quindi ho bisogno sostanzialmente di prendermi un attimo e sento di dover staccare da questo YouTube in particolare, che sicuramente in questo periodo non mi ha aiutato. Ecco, come ho detto prima, non è un video di addio, è una pausa che durerà sicuramente perlomeno fino a luglio, quando finirà la maturità e quando avrò la testa più sgombra. Ho deciso di rivalutare tante cose nella mia vita, YouTube è stata la prima, assolutamente. Ho deciso di portare a termine la Soulink, perché riguardava comunque Luke, che sicuramente aveva il diritto di vedere un progetto che avevamo creato insieme portato a termine. L'ho completata anche con relativa voglia, perché comunque è una coppia, però ecco, la situazione sostanzialmente è questa. Ho bisogno di tempo, io non ho mai preso una pausa su YouTube in vita mia, questo è il primo video che faccio di questo tipo. Credo che sia anche giusto che io mi prenda un attimo i miei spazi, i miei tempi, per cercare di vedere che cosa voglio veramente da questa piattaforma e che cosa voglio da me, in sostanza. Quale vuole essere il mio futuro, fra tante virgolette. Chiaramente io non scomparirò, voglio evitare di essere inattivo e di sparire dai vostri radar. Sarò attivo nelle risposte, in particolare sui social, quindi se voi avete Instagram o Telegram, che sono quelli che utilizzo di più, scrivetemi pure in privato, trovate tutti i metodi per farlo qui sotto in descrizione, ho un profilo Instagram, c'è un gruppo Telegram, insomma contattare la mia persona e parlare con me mi fa sicuramente piacere perché alla fin fine è quello che voglio e quello che penso di aver sempre voluto da YouTube, ossia contatti con le altre persone. Credo che alla fin fine le visual siano e la voglia sostanzialmente di fare visualizzazioni sia arrivata dopo, penso che l'inizio sia stata una condivisione e vorrei che fosse così, quindi se avete dei social e volete contattarmi in privato per parlare del più e del meno, chiedermi pareri o semplicemente fare una chiacchierata quando posso, quando ho tempo, più che volentieri. Non sarò attivo su YouTube, non caricherò video, sulla community potrei fare qualche post, questo ovviamente è possibile, ma per il momento ho deciso che con i video mi fermo qua. Voglio che sia chiaro il motivo per cui mi fermo, non è di certo il periodo buio né di Pokémon né tantomeno di YouTube. Sicuramente sul mio morale ha influito, questo non lo nego, però la mia idea non era quella di mollare per colpa della mancanza dei risultati. La mia idea è stata di prendermi una pausa perché non sentivo mio quello che creavo. E questa cosa qua poi si è estesa da altri ambiti della mia vita che mi hanno portato a vivere questo periodo molto particolare di cui magari in un prossimo video tra un po' di tempo magari vi racconterò più nel dettaglio. Adesso sinceramente non mi sento né in grado né tantomeno voglio dirvi qualcosa che non è certo perché sto ancora anzi ho iniziato giusto qualche giorno fa questo questo processo ecco di di riconoscimento mio che in questo momento ho perso a partire fin da YouTube. Quindi nulla ragazzi io spero che capiate mi piacerebbe vedere qualche commento vostro ma soprattutto mi piacerebbe parlare con voi mi piacerebbe che mi seguiate su Instagram perché lì magari sono più attivo anche non dal punto di vista del canale cioè faccio anche altro e magari è il social che manterrò più attivo in generale quindi se se avete Instagram o se non l'avete potete fatevelo e magari ci scambiamo qualche parola sapete che io di base ho sempre risposto a tutti voi mi dispiace per chi cercava magari dell'intrattenimento ma in questo momento non ho intenzione di portarlo perché voglio cercare di riassestarmi e YouTube non mi dà questa opportunità perché tramite varie riflessioni ho capito che forse la piega o la la piaga la piega che ha preso in questo periodo il canale non è esattamente quella che voglio quindi ho bisogno di tempo scusate se sono stato ripetitivo mi dispiace non ho un copione davanti e forse non ho bene nemmeno chiaro in mente quello che volevo dirvi sta di fatto che spero che il messaggio sia passato chiaramente non è che mi tolgo la vita cioè non pensate che io stia soffrendo chi sta cosa sto attraversando un periodo difficile questo sì non lo nego però mi sembrava giusto informarvi perché almeno gli iscritti più vicini hanno sempre e si sono sempre interessati alla mia persona e quindi secondo me è giusto che si sappia ecco ripeto entrerò nei dettagli più avanti detto ciao ragazzi io per il momento chiudo qua con questa pausa che sarà una pausa riflessiva sappiate che ho tante idee in realtà per i video le ho sempre avute e ce le ho tutte su un bel documento che ho qua davanti sul computer ma che voi non vedete e che quando tornerò se non sarà un video di addio sarà sicuramente un video per riprendere in mano il canale questo sicuro detto ciò io non so nemmeno bene come concluderlo questo video perché ripeto non sono abituato mi piacerebbe dirvi con certezza ci becchiamo ad un prossimo video ma non ne sono proprio sicuro comunque penso di sì e quindi ragazzi lasciate un commento passate dai social mi raccomando questo è quello che vi chiedo per quest'ultimo video in questo momento e noi ci becchiamo in un prossimo video e noi ci becchiamo